Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui di Donati su Fortnite in compagnia della mia ragazza Salve Per andare a fare un po' di chiarezza su tutta questa situazione delle moda, le armi su Fortnite Perché sì, adesso si possono modificare le armi tramite dei banchi di lavoro Che durante il video vi farò vedere, vi dirò dove si trovano, come appunto utilizzarli, eccetera, eccetera Vieni continuare il video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY Non ti tutto grande, tutto attaccato nei codi oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi Quindi incontrate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato Anche perché ogni due settimane il codice scala e dovete reinserirlo Grazie a quello di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, per non perdervi tutti i prossimi contenuti Ma recuperatevi anche quelli che sono già usciti Per esempio è uscito un video dove sono andato a prendere tutte le armi mitiche dei boss E abbiamo anche vinto, tra l'altro È uscito proprio questa mattina, quindi andatevelo a recuperare E poi nella giornata di ieri sono usciti i classici video informativi sulla stagione E tante altre cose, quindi recuperateveli Appunto lasciate anche un bel like Ora vi lascio il game e alla spiegazione più che altro buona visione Allora ragazzi, per avere un po' più di tempo per spiegarvi Comunque prendercelo un po' più con calma Direi di andare a rotaie che è quello un po' più centrale Anche distese abbastanza centrale Però boh, rotaie magari in questo caso mi piaceva di più Devo ancora capir bene pure io, eh Però cerchiamo di capirlo insieme dopo tutto quello che già mi sono letto e ho provato Rotaie tra l'altro dovrebbe avere anche un bel po' di loot Lingotti come siamo messi amore? Tu quanti ne hai? Ottocento Vabbè io milleottocento, sì vabbè tanto ho visto che non costa tanto modificare le armi ragazzi Comunque sì, ovviamente vi servono i lingotti per modificare le armi Ma non ve ne servono troppi, tra l'altro se aprite il bunker No io in realtà sono atterrato a casa E sto salutando tanto ho visto che solo uno è atterrato con noi Ma che? Ah bene E allora regà praticamente, questo lo dico subito, tutte le armi che trovate a terra sono già modificate Vedete per esempio questo, apriamo direttamente così vi faccio vedere Esamina Questo qui ragazzi c'ha il mirino ottico, è la stessa identica arma, solo che uno c'ha il mirino ottico e l'altro c'ha il silenziatore L'ho lutata adesso a terra regà, non ho fatto tagli, amore ci sei? Sì ma c'ho team io Ok arrivo, arrivo un attimino poi concludo sto discorso E io l'ho ucciso, l'altro non so dove sia credo sia dentro Esatto Ok aspetta qua ho visto un pump, arrivo Craccato, morto Ok bravissima Quindi ragà come avete visto la stessa identica arma a terra aveva due modifiche diverse Ovviamente voi senza il banco di lavoro non le potete modificare le armi Quindi siete obbligati, se volete modificare le armi Ad andare in uno dei posti dove ci sono i boss Comunque come vi stavo dicendo, Tana, Scalini, Distese, Quarrotaie o Grangi Acciaio Per entrare nei bunker dei boss Tra l'altro all'interno dei bunker come stavo dicendo prima ci sono parecchi lingotti Quindi se non avete lingotti non vi preoccupate perché ve li farmate direttamente nel bunker Per aprire il bunker ora ve lo faccio vedere ma se avete già visto il video anche di oggi dove ho vinto insomma utilizzando soltanto O meglio soltanto andandomi a prendere tutte le armi mitiche dei vari boss Sicuramente lo avrete già visto Però nel dubbio comunque oggi andiamo un attimino a rispiegare tutto quanto Qua tra l'altro regà noi dobbiamo imparare le posizioni delle chest, le posizioni delle chest di munizioni Insomma un sacco di cose dobbiamo ancora comprendere Serena giustamente va a comprarsi delle cose ma io pure non sto trovando shield E io sì invece perché non sto trovando shield Allora aspetta, allora No giustamente un po' l'ho già sprecato e me l'ha buttato E ho fatto una cavolata E mi faccio lo shieldino e lo shieldone adesso Eh regà ho fatto una cavolata volevo ridare lo shieldone a Serena ma mi so dimenticato che adesso funziona in maniera leggermente diversa gli shield Va bene Allora Detto questo Stavo dicendo raga che Dentro il bunker c'è comunque dell'oro I medaglioni vi danno lo shield Vi danno un sacco di cose ragazzi Quindi comunque poi vi consiglio di tenerlo E io direi amore che possiamo anche andare direttamente al boss Attenzione sparano di qua eh Eh magari sono ancora quelle triggerate da me eh Ma io qui avrei rotto una certa ma non è caduto niente Molto buono Ah qui mi segna passi ma potrebbero essere ancora i cosi Ah c'era il doppio pavimento Quindi ho rotto un pavimento E quindi non te è sceso l'altra E il loot è sceso all'altro pavimento Giustamente Giustamente Allora regà io una modifica e vi consiglio sempre è il caricatore rapido Ma adesso comunque che andiamo al banco di lavoro vi faccio vedere per bene Ma per ogni arma raga vi consiglio Il caricatore rapido No ma c'è la taglia al boss Eh sì Aiaiaia Eh c'è la torretta maledetta Ah c'ho Aspetta i cespugli Ci funziona ancora il cespuglio? Io c'ho lo scuso No dove l'ho tirato? Ok Eh no amore non l'hai coperta No uno Ah l'ha distrutto allora No no con uno l'avevo coperto Oh mio dio No ha finito i colpi Oddio Allora lei sta andando giù Che è quella peggio Ok Intanto prendo il medaglione Guardate lo shield ragazzi eh Guardate lo shield che sale Senza che io debba fare nulla Allora ragazzi Io arrivo al bunker Tanto ve lo segnano Oltre che prendete il medaglione Ve lo segna Andate davanti al laser Vi scannerizza E lo aprite Ok Come si scende? Eh ci sono le scale qui amore Ci sono le scale Lì dove t'ho appingato Ora una volta che aprite Come vi stavo dicendo I lingotti ci sono C'è anche un po' di loot Qua poi vedete voi ovviamente Come gestire il loot Io ho trovato anche un'arma leggendaria Perfetto Eh ok La mitraglietta qui Sì Ah questa è un'altra mitraglietta Che c'ha già un sacco di cose Allora Andiamo al banco da lavoro Va bene Tra l'altro qui ragazzi Al banco ci sono delle armi Che potete lootare Con delle modifiche Già preimpostate Come potete vedere Ma a noi ovviamente Interessa il banco Una volta aperto il banco Ragazzi Voi con i lingotti Potete andare a comprare Ed equipaggiare Mirini ottici Caricatori Sotto canna Che sarebbe l'impugnatura Per diminuire O aumentare il rinculo E ovviamente Il barile Che questo qui Dovrebbe essere tipo Il silenziatore ragazzi O comunque La parte finale dell'arma Che va a determinare Come esce il proiettile Quindi per esempio Noi prendiamo il mirino ottico Attualmente dovremmo avere Non ce l'abbiamo mi sa Aspettate un attimo Fatemi vedere Perché mi sa che non ce l'ho attualmente Non ho mirini Ah no si C'ho questo mirino qui Perfetto Quindi io per esempio Vado a comprare Di equipaggiare Quest'altro mirino Ok Ed è cambiato Non lo so amore Li devo capire ancora pure io Sto cercando un attimo Di capire Il banco da lavoro Poi ci abbiamo Il caricatore a cilindro Oppure il caricatore rapido Io ragazzi Vi consiglio sempre Di mettere il caricatore rapido Ovviamente ragazzi Andate a modificare L'arma che selezionate Quindi io per esempio Prendo l'assalto Altri mirini C'ha altre cose Col caricatore ci sono altre cose Cioè ovviamente Ogni arma Poi c'ha le sue modifiche Da poter fare Io il caricatore rapido Ve lo consiglio ovunque La mitraglietta però Per esempio Hyper di Valeria Non la potete modificare Perché è già modificata Da lei E' già stata impostata Da lei Quindi è già così Quindi quelle mitiche Non le potete andare a impostare Però per esempio Tutte le altre Mi ridai un attimino Mi ridai un attimino al volo Quella leggendaria Che ho lasciato qui Intanto poi te la ridò Però volevo far vedere Che quella leggendaria Ti dovrebbe poter modificare Ok vedete Io la posso modificare Qui ci sono le varie impugnature Ovviamente poi Va un attimino capito Cosa bisogna impostare E cosa conviene Per esempio ci sono I caricatori a cilindro Che amminta la capacità Del caricatore Invece poi c'è Il caricatore rapido Che ha meno munizioni Ma è più veloce a caricare I mirini Dipende un pochettino Da quale vi trovate meglio voi Come vedete ci sono mirini Che in alcune armi Non si possono impostare E poi c'è l'impugnatura angolata Tanto sotto ragazzi Vi spiega sempre quello che fa Quindi l'impugnatura angolata Riduce il tempo necessario Per passare al mirino Quindi è più veloce Quando dovete mirare Mentre per quanto riguarda L'impugnatura verticale Migliora il rinculo E la rosata Quando usa il mirino Ovvero quando stai sparando Col mirino C'ha meno rinculo E' più preciso Invece per quanto riguarda Quello che è impostato Per esempio attualmente Su questa mitraglietta Il laser Aumenta la precisione Del fuoco non mirato Quindi quando non miri E spari appunto Senza mirare E' più preciso Dipende da voi ragazzi Dipende da come volete giocare voi Con ogni arma Ovviamente ragazzi Come vi stavo dicendo Ci sono impostazioni E cose diverse Da poter fare Però di base E' sempre la stessa storia Come vedete invece In quest'altra cassetta Voi potete banalmente lutare Comunque vi da colpi Vi da cose E secondo me Sono utili Banalmente Ok Qua per esempio Il cecchino Lo andiamo ovviamente A migliorare E vado anche A cambiare Le impostazioni Miglioremo le impostazioni Perché io non sono full Ah sì 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 Ci sono anche Oli di slap Allora Riduce il rinculo Riduce la vampata Attudisce il rumore E io direi Di impostare questo qui Ok Va bene Poi per quanto riguarda L'impugnatura Riduce il Eh Quello potrebbe essere interessante Ridurre il tempo Per mirare Migliorare il rinculo Non mi interessa Perché tanto è un cecchino Quindi direi Di prendere questo Ok Perfetto Per quanto riguarda Il caricatore Aumenta la capacità Del caricatore Ma regà Io non so se Si può aumentare Ah no ma chi se ne frega Di aumentare la capacità Sono tre Un cecchino Lo ricarico Quindi aumenta La visuale ricarica Ma già è impostato Come vedete C'è la v C'è la v ragazzi Sempre E invece per quanto riguarda Il mirino Allora Attualmente Abbiamo questo No non mi fa impazzire Perché ho visto che questo qui È molto forte con questi altri Proviamo questo qui raga Visione ingrandita Per tre Ovviamente vi dice anche Di quanto si ingrandisce C'è la visuale Vediamo gli altri Un attimo Regà Per 1.15 Per 2 Per 4 Forse per 2 ragazzi Forse per 2 regà Proviamo per 2 Sì forse questa è la cosa migliore Il pump Vediamo un attino il pump Col mirino Regà io il pump Col mirino Sì Oh non lo so Ovviamente questi più alti Non si possono prendere Direi di mettergli Semplicemente Il mirino occhio rosso Mettiamogli quello Che si ricarica rapidamente L'impugnatura Questo qui Quando non miri È più preciso Direi che ci sta E qua raga Riduce il rinculo Direi che va più che bene Io direi che miglioriamo Soltanto queste armi Qui che abbiamo toccato Raga tanto Stamitagnetta Non mi interessa L'assalto in realtà Lo vorrei cambiare Quindi raga Per adesso lasciamo qui Più che altro Sai cosa non ho visto Le postazioni di potenziamento Io non ho visto ancora Eh ma mi sa che ormai Non ci sono più Ci sono queste e basta Ci sono queste e basta Però queste non ti fanno potenziare Le armi Pur volendo Non lo so Quindi raga Questa è la spiegazione Le armi che trovate a terra Come vi ho spiegato prima Sono già modificate Però modificate Da altre persone Quindi o da altre persone O dal gioco Che ve le dà già preimpostate Ti stanno sparando amore? Sì Ma che è un Ah no è uno real eh Sì Ok questa è la mitraglietta De cosa raga eh Questa Ma lui non spara più? Dopo che uccidi il boss Non spara più Oddio prima Mi ha lacerato Morto il boss Però vabbè Ma Per noi si è buggata Sì potrebbe essersi buggata Tanto non mi sorprenderebbe Scoprire se è buggata Ah oh la safe La safe ragazzi La safe Mi colpi e va bene Quindi raga Dipende poi da voi Come volete giocare Chiaramente Nelle prossime settimane Quando capiremo un attimino Qual è l'impostazione più forte Adesso ci farò anche un video Dove dirò Raga Ho scoperto finalmente Le impostazioni più forti Per ogni arma Stanno sparando di là Nel frattempo Quindi poi Da lì Vediamo Capiamo E cerchiamo di capire Cosa conviene L'antenna forse Sì Però ragazzi Non me la sento di dirvi Raga è più forte Sire Che è più forte Che qua Io ho cercato di fare Delle impostazioni Che piacciono di più a me Quindi diventa anche Una cosa molto personale Molto soggettiva E quindi poi lì Starete un attimino Voi A capire come vi conviene Impostare le Le armi Sì C'è la chiave a terra L'isola vicino E Sì andiamo da questi qui Sì andiamo Tanto adesso noi La spiegazione abbiamo fatta Oh mio dio da dietro Ti stanno anche tenendo Sottomira col cecchino Io non ho cover Mi ha preso Ho ittato io però pure uno Ho messo un bush Hai fatto bene Io mi devo fare lo scildone Anche se regacio al medaglione Mi faccio lo scildone Perché se no è un casino Da dietro Pure da dietro Pure da dietro Eh ma questi ci stanno a pushare Sì questo è one shot Ma non muore Non muore Eh vabbè anche da dietro Eh vabbè raga Io sto cercando di muovermi lateralmente Amore Oh mio dio Eh ci hanno chiuso così a panino Eh sì Brutta storia Io cerco di tenerti buoni Questi altri ma Eh vabbè Ok Distrutto Questo qua dietro No eh no Quelli dietro Non l'ho proprio toccati Ok adesso un po' anche Quelli sopra Mamma mia quanto rinculo C'ha pure questo Me sto a diventare scemo Sto a diventare Avete visto raga Sono fondamentali Ste modifiche 110 Uno sopra Dove? Dovremmo provare A fare il giro Da di qua Eh Provo a lutare qua Che c'è sta C'è sta niente Allora aspetta un attimo Amore Ma se io ti lasciassi Al volo il medaglione Prova a prenderlo Curati Vediamo un po' Ok sì Hanno conquistato Sopra l'isola Dobbiamo stare attenti Ok Eh sta arrivando anche la tempesta Finiamo di curare te Mi ridai il medaglione E andiamo Ok Ovviamente raga Poi bisogna anche Prenderci un attimino La mano con Con le Con le armi nuove Nel senso che Io non le conosco ancora No più che macchine Al treno No mi aveva segnato Un altro simbolo Ah Non ho visto In tempo quale fosse Ma credo fosse una macchina Ma questi hanno ucciso i bot Ma non l'hanno utilizzata La guard Eh ma non facciamo in tempo Neanche noi ormai Sono qua sul tetto Ora si è impulsato Ok Eh sì Infatti ci sto sparando 110 Io sono fatto proprio 24 Eh one shot infatti È stra one shot il pesce Madonna quant'è veloce la tempesta Passi qui Passi qui Eh E come arriviamo in safe Se ci sta la cosa Eh raga Non riesco a salire Madonna mia raga Io ve l'avevo detto E c'ho la parola della mappa Ti stanno seguendo Eh Eh lo so che mi stanno seguendo A me tanto devo pensare La tempesta Non è che c'ho tanti altri Pensieri per la Eh no Ma da sopra Però te l'ho atterrato Perché tanto ci muoio Grandissimo amore Eh questo Eh vabbè No ragazzi Però fermi un attimo Ah C'è morto anche tu Eh sì Ma per forza Cioè nel senso Quando c'hai la La montagna così Ma come ti muovi Ma è possibile che Epic Non riesce a capire Che le mappe in questo modo Con le tempeste Con le montagne Non le può fare Cioè non se lo può Proprio permettere In no build Io ragazzi La prima cosa Che ho detto Appena ho visto la mappa È stata Ok Mi spaventa un pochino Questa zona di mappa Con tutte queste montagne Come faremo in no build Speriamo ci siano Un sacco di zip Le avete viste Poi le zip Perché io Non le ho viste Ma ora A prescindere da tutto Anche quando siamo rimasti Chiusi nel panino Se quelli sopra la montagna Fossero stati leggermente Più forti Che tra l'altro erano anche questi Che poi ci hanno killato Ci avrebbero distrutto Perché c'era troppa distanza Tra noi e loro E troppa altezza In no build Ragazzi Per ora Questa parte di mappa È totalmente ingiocabile Se non hai un movement E che movement Ci stanno Il rampino Che tra l'altro È difficile da usare Ed è lento E le impulsi Che non si trovano Praticamente mai Non ci sono cover Attualmente non ci sono cover Se non lo scudo Ma poi fa abbastanza schifo Da come abbiamo visto E sette laser Non lo distruggono in mezzo secondo Non lo so Io spero che per le no build Facciano qualcosa Perché attualmente Sono totalmente ingiocabili Detto questo ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Vi ricordo ovviamente Dobbiamo ancora anche Prenderci la mano con le armi Quindi poi Una volta che prendiamo mano Con le armi Una volta che capiamo bene Queste mod Cercheremo di fare dei video Un po' più completi Ma spero sia tutto chiaro Per ora Ripeto I banchi da lavoro Si trovano solo Nelle zone dei boss Lì nei loro bunker Per ora da quello Che ho visto io Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccando Nei cosoggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace E recuperatevi Tutti i video Che sono già usciti Su questo nuovo capitolo 5 Per noi è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzuali Ciao